Stasera c'è la presentazione di una mozione sul caro affitti, un problema che ha afflitto e affligge la nostra generazione, una mozione che abbiamo scritto noi, abbiamo scritto e rappresentata dal consigliere Matteo Capriolo, consigliere delegato alle politiche giovanili, ed è firmata da tutti i consiglieri che sono sì del PD, ma anche dei giovani democratici. Ecco, è un problema annoso evidentemente e in queste settimane, in questi mesi è cresciuto sempre di più. Pensate che la regione, gli studentati della regione coprono soltanto il 4% degli studenti fuori sede, ed è evidentemente non sufficiente. Noi chiediamo alla regione, chiediamo al governo di cambiare rotta e di capire che i problemi della nostra generazione non può essere rubricato semplicemente a un problema di ragazzini viziati, ma è un problema serio, è un problema che deve essere affrontato con la giusta serietà. Quindi questa è una sorta di solidarietà che voi date agli studenti o la situazione di Varese in qualche modo è simile? La situazione di Varese in realtà potrebbe essere attrattiva, anzi chiediamo che i servizi di Trenord vengano migliorati, appunto come dicevamo anche questa competenza regionale, noi chiediamo che i servizi di Trenord vengano migliorati per accrescere l'attrattività di tutte le città, anche in nitrofe a Milano, che potrebbero essere effettivamente quello che manca a una città come quella. Grazie.